comunicato stampa allora dichiaro ufficialmente al gruppo due ruote mountain bike bagno di divorzio ufficiale con maurilio capitoni perché vanno durante la settimana capito e mentre il sabato la domenica le mezze scarselle non le considerano per niente capito cioè questo non è una cosa bella da parte nostra però io mi inchino ai professionisti continuate così ma rimarrete sul ora prima